Fare impresa non è cosa da poco, anzi necessario un adeguato percorso di formazione perché imprenditori non ci si improvvisa ma si diventa. Per questo il GAL dell'SR Calabresi ha deciso di organizzare un corso di formazione professionale per imprenditori agricoli, diversi gli appuntamenti previsti e le lezioni tenute da professionisti del settore. Oggi avviamo ben tre corsi di formazione con 48 allievi che sono destinati a formare la figura di imprenditore agricolo professionale. Fanno parte di un piano formativo molto più ampio che prevede ben 14 corsi di formazione e tre workshop finali. Abbiamo corsi di formazione anche sui mestieri tradizionali, l'intreccio del Vimoni, sull'apicoltura, ma anche innovativi sull'agricoltura 2.0, su tecniche innovative di telemetria aziendale. Quindi l'augurio che noi facciamo è che il territorio possa rispondere alla domanda di formazione che il GAL mette in atto con una partecipazione attiva. Noi siamo estremamente contenti dell'avvio perché c'è stata una partecipazione straordinaria a questo corso per imprenditori agricoli. Sono arrivate più delle domande che noi potevamo soddisfare. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Marziale Battaglia hanno fatto delle valutazioni, hanno fatto delle scelte in base ai criteri di selezione. Selezionato 48 allievi che hanno avviato oggi i corsi di formazione professionale. Grazie. Grazie.